Prego Grazie 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 Grazie. 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 Sumus ex flerturi Quod cum ad romano accresiam Argiebiscomum emeritum den veriensem Salvatare de Giorgi Argiebiscomum metropolitam pano evitamum Metropolitam bello horizontinum Antonium Mariam Roo Covadella Argiebiscomum metropolitam madridensem Maroijium Mateum Ambrozic Argiebiscomum metropolitam torrentinum Ioannem Balan Argiebiscomum metropolitam lugdunesem Dionysium Tertamanci Argiebiscomum metropolitam Iannuensem Policarpum Pengo Argiebiscomum metropolitam Dales Salamensem Christopom Shenbom Argiebiscom metropolitam windo bonensem Adam Kozlovetski Turantinum Dinum Manduzzi Episcopo Argiebiscom metropolitam Beatissimo Padre A nome dei nuovi cardinali creati oggi Rivolgo alla santità vostra un saluto che esprime la nostra profonda gratitudine e che nel contempo è l'occasione per attestarle la ferma volontà di segnare le nostre vite e le nostre attività con una accresciuta adesione alla fede cristiana e cattolica ed una accresciuta lealtà a colui che, per volontà del Signore Gesù, Nostro unico Salvatore, costituisce il principio visibile dell'unità del Collegio dei Vescovi come di tutto il popolo di Dio Il nostro inserimento nel Collegio dei Cardinali ci unisce più strettamente a questa Chiesa di Roma nel cui Vescovo permane la successione di Pietro, discepolo, apostolo, martire e roccia al quale Cristo, il figlio del Dio vivente, affidò il ruolo di confermare i Suoi fratelli La Chiesa di Roma, come ci insegna Sant'Ignazio di Antiochia, presiede nella carità, cioè nella comunione visibile ed organica del corpo di Cristo Questa Chiesa è, insieme con tutte le Chiese particolari, custode del deposito della fede Ma è, in modo speciale, il punto di riferimento della comunione universale Infatti, come dice Sant'Ireneo, con questa Chiesa di Roma L'unità della Chiesa deve concordare ogni Chiesa a motivo dell'autorità posta a suo fondamento L'unità della Chiesa ha come causa profonda l'azione dello Spirito Santo che ci spinge a riconoscere il Padre Celeste, fonte di ogni bene E' il suo figlio che ci salva del peccato Al servizio dell'unità interiore, il Signore ha voluto porre l'azione ministeriale della Chiesa Il suo magistero, la sua vita liturgica e l'esercizio dell'autorità pastorale Che non è soltanto una realtà dell'ordine giuridico Ma che esiste per essere garanzia di comunione Di autentica ricerca della gloria di Dio E di attuazione del mistero della salvezza Alla quale sono chiamati tutti gli uomini E il cui adiempimento perfetto si avrà nel giorno glorioso della parousia del Signore Quando Lui verrà di nuovo in tutta la sua gloria e maestà E Dio sarà tutto in tutti Non è ancora venuta nella sua pienezza E perciò Lui stesso ci ha comandato nel grembo purissimo della Beata Vergine Maria Abbiamo una immensa gioia per il dono ricevuto E sentiamo un fervente desiderio di far conoscere ai nostri fratelli Il dono prezioso della fede Tutti noi, ognuno nel posto che occupa all'interno del corpo di Cristo E di opportunità per mettere a frutto i doni che abbiamo ricevuto da Dio, nostro Padre Si rispecchia la missione della Chiesa Il cui scopo essenziale è l'annuncio gioioso del Vangelo Della gloria della grazia di Dio Della speranza della vita eterna E delle incancellabili esigenze della parola di Dio Di fronte alla realtà di questo mondo Sappiamo quanto deboli siamo Ma contiamo di San Pier Damiani Festa di oggi Santo Vescovo Dottore della Chiesa E cardinale E da lei Oremos Dottore della Chiesa 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 Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. 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 Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Le parole dell'Apostolo Pietro, nel rivolgermi a voi, venerati e carissimi fratelli, che ho avuto la gioia di associare al Collegio dei Cardinali. E se richiamano il nostro fondamentale radicamento come Signores nel mistero di Cristo, Capo e Vastore, in quanto partecipi della pienezza dell'Ordine Sacro, di Lui noi siamo nella Chiesa e per la Chiesa una ripresentazione sacramentale, chiamati a proclamare altravolmente la parola, a ripeterne i gesti di perdono e di offerta della salvezza, ad esercitarne l'amorevole solicitudine fino al dono totale di noi servizio ecclesiale di ancor più grave responsabilità, in stradissima collaborazione con il Vescovo di Roma. Credo in Deum, Patrem Omnipotentem, Creatorem Celi e Terra, et in Iesum Christum, Filium Eius Unicum, Dominum Nostrum, qui conceptus est Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, passus su Pontio Pilato, crucifixus mortus et sepultus, descendit ad inferos, tercia diae resurrexita mortuis, ascendit ad cielos, sedet ad exteram dei Patris. Il Vescovo di Roma il Vescovo di Roma. Il Vescovo di Roma. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Amen. Grazie a tutti. 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 ... 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti